Manuela, com'è nata l'idea di indossare la maglietta con la scritta NUMOS proprio il primo giorno del Consiglio Comunale? Perché ho indossato la magliettina? Perché sicuramente il primo giorno del Consiglio mette in vista più di tutti gli altri eventi del Consiglio Comunale e tutti i componenti. Quindi non mi è stato assolutamente imposto da nessuno, anzi credo che come tutti sanno faccio parte di un partito che appena, giusto due giorni fa, ha bocciato quella che era la mozione presentata da Selle che vedeva come primo firmatario Erasmo Palazzotto che chiedeva proprio la sospensione dei lavori. Nonostante tutte le polemiche che si sono riscontrate per questa mia scelta della maglietta, io intanto vorrei rispondere che non era sicuramente un gesto per mettere in risalto quello che era la mia persona, ma solo ed esclusivamente quella che è la causa che appunto ho sposato da tanti anni. Rispondo ancora una volta che la lotta no moose non ha una bandiera, la lotta no moose ne ha una sola che appunto è quella del no moose e solo questa segue. La lotta no moose è una battaglia che mi vede protagonista dal 2011, ho intrapreso questo cammino perché comunque ho sempre visto nel moose un'incoerenza del terzo millennio che credo che abbia scioccato un bel po' di persone. Ho iniziato a studiare la tematica proprio quando l'estimo articolo di Antonio Mazzeo, ora è stato candidato nella lista Sipras, dove proprio spiegava come il moose potesse far parte, potesse essere il protagonista delle nuove guerre. Vorrei lanciare un messaggio importante proprio perché il governo nazionale ha dato il continuo dei lavori, stiamo organizzando una manifestazione il 9 agosto a Niscemi, sarà una manifestazione nazionale dove rivendicheremo ancora una volta la presenza del movimento no moose contrario al nostro governo.